Il workshop di oggi è dedicato alle intersezioni tra Space Economy e Blue Economy. Qual è il messaggio che volete trasmettere con questo evento? Tanto abbiamo invitato relatori importanti, esperti della Space Economy ma anche della Blue Economy e quello che vogliamo ricavare da questo workshop qui è proprio dare tanto la dimensione di quello che è il business della Space Economy che appunto come dicevo ci sono tante applicazioni ma se andiamo a vedere la combinazione Space Economy e Blue Economy è assolutamente per un paese come l'Italia dove le coste, un sacco di chilometri di coste, 4.000 chilometri di coste se non va derrato e quindi con tutta l'economia del mare, con l'ambiente marino, ricordiamoci che Copernicus ha poi sviluppato dei propri servizi sull'ambiente marino sicuramente è un valore aggiunto importante per l'Italia e anche per la nostra regione. I messaggi che diamo in questo workshop appunto da parte del discorso proprio della Space Economy e della Blue Economy sono la necessità di skill, di competenze relativamente all'utilizzo dei dati satellitari, dati copernico per lo sviluppo di applicazioni e avremo diverse testimonianze importanti diciamo di applicazioni eccetera con importanti relatori per esempio abbiamo Ispra che presenterà un servizio proprio di monitoraggio delle frane, proprio un nuovo servizio a livello nazionale piuttosto che l'Agenzia Spaziale Italiana che presenterà un po' le esperienze in ambiente costiero e abbiamo invitato anche due aziende leader nazionali che sono Engineering e Planetech che presenteranno le loro esperienze anche in ambito marino, Engineering anche sul discorso degli Open Data che è un aspetto molto importante per lo sviluppo della Space Economy. Anche abbiamo il discorso della dimensione della ricerca, ci sarà anche una testimonianza del CNR in questo discorso qui. E poi un messaggio importante è il discorso della dimensione che dà la dimensione europea alla dimensione nazionale cioè dei relatori nazionali a livello regionale e locale, quindi qui la collaborazione col Blue District e anche con i poli per l'innovazione della regione Liguria che considerano la Space Economy collegata alla Blue Economy come un elemento di trade union per sviluppare nuove proprietà, nuovi business intorno a questi temi qua.